Ci troviamo oggi di fronte a un paradosso, che è il paradosso tra le enormi capacità produttive della nostra economia e l'enorme capacità di questa società di garantire un enorme benessere materiale a tutti i livelli e, se non a tutti, a una gran parte della popolazione. Questo da una parte e dall'altra un'insoddisfazione generale, il risentimento che cresce. Anche qui, ogni strato sociale, ogni paese, perlomeno in occidente, e non solo, ovviamente. E questo paradosso è quello che mi sembrava più interessante analizzare, per capire come potesse nascere questo senso di miseria relativa nell'abbondanza. La risposta che mi sono dato, ovviamente a partire da molti autori, filosofi, sociologi, è che in fin dei conti il nostro sistema, il modo in cui funziona la nostra economia, è in grado di soddisfare sempre più bisogni materiali, ma tanto più soddisfa i bisogni materiali, tanto più crea il bisogno di nuove cose, di bisogni che non sono più materiali, ma che sono bisogni simbolici, bisogni sociali, bisogni reputazionali, bisogni di riconoscimento, di autorealizzazione. Ed è in questo paradosso, in questo sfasamento tra l'abbondanza delle merci e la scarsità del riconoscimento, che secondo me si trova la chiave del risentimento che sale in questa società e che ho cercato di analizzare parlando appunto di classe disagiata, cioè una classe che vive un movimento di mobilità discendente, dalla condizione di agio più o meno relativo, più o meno diffuso, caratteristico degli anni del boom economico, a una condizione in cui in fin dei conti tutte quelle risorse accumulate, nemmeno tutte quelle risorse accumulate, sono sufficienti per garantirci l'accesso a dei beni molto più importanti in fondo, paradossalmente, che i beni materiali, che sono questi bisogni simbolici. Io credo che la società ai tempi della rivoluzione industriale o della rivoluzione francese usciva da una tale dimensione di miseria, di ingiustizia, che quando si è aperta la possibilità di un nuovo tipo di società, di una società in cui fosse possibile ridistribuire le risorse, di una società in cui fosse possibile rendere più produttiva l'economia, ci si è dimenticati di una piccola anomalia, di un piccolo bug di sistema che è quello di cui parla Tocqueville quando analizza la rivoluzione francese, ovviamente dal punto di vista di un aristocratico, dicendo che si è sostituito la società di classe, o meglio, scusate, la società di casta con una società in cui tutti gli individui si ritrovano in competizione gli uni con gli altri. E questa competizione, che per lungo tempo ha caratterizzato la società liberale, ma che era latente e che non emergeva in maniera eccessivamente conflittuale, perché in fin dei conti il ritmo della crescita economica era in grado continuamente di assorbire quelle domande, quindi pensiamo alle domande sindacali e pensiamo a tutti gli enormi successi che nel corso del Novecento sono stati ottenuti, pensiamo appunto a tutte le politiche che sono state fatte negli anni del boom economico a favore dei lavoratori, tutte queste cose erano ancorate al treno della crescita economica. Nel momento in cui una società che ha fatto nella competizione di tutti contro tutti la propria regola, la propria norma di vita, in un momento in cui questa società si trova di fronte a un'interruzione o un rallentamento della crescita economica, a questo punto la guerra di tutti contro tutti latente rischia di diventare una guerra di tutti contro tutti reale. Il problema è che in molti settori dell'economia e dell'educazione e dell'istruzione universitaria si è creduto che erogare dei titoli, dei titoli di studio per esempio, fosse da solo in grado di creare opportunità di lavoro e che quindi come una zecca di Stato che stampa moneta si è creduto che bastasse stampare moneta perché questa moneta avesse corso legale e perché avesse un vero valore corrispondente a quello scritto sulla carta. Invece ci si è accorti che semplicemente quello che si è ottenuto è stato inflazionare tantissimo questi titoli, rendere vani gli sforzi e gli investimenti di molte persone che pensavano che appunto attraverso il titolo sarebbero riusciti a ottenere quello che desideravano, quello che avrebbero dovuto diventare, avrebbero voluto diventare e ci si trova oggi in un contesto tipicamente italiano ma non soltanto, che si ritrova anche persino negli Stati Uniti dove il debito studentesco sta diventando un enorme problema economico-finanziario, ci si ritrova in una situazione in cui sostanzialmente siamo tutti con le tasche piene di titoli senza più valore, di titoli inflazionati e questo riguarda ovviamente certi settori che sono quelli più, come dire, potremmo definirli velletari, quelli in cui in fin dei conti uno studia per realizzare una propria passione, però si ritrova in tutti i settori, non soltanto per gli umanisti, per i filosofi a cui in fin dei conti ci dicevano da anni, no, filosofia, cosa fai con filosofia, eccetera, ma anche chi fa l'avvocato, chi fa l'architetto, persino chi fa l'ingegnere oggi in Italia, si ritrova con dei titoli che valgono molto meno di quanto potessero valere 40 anni fa e questo ovviamente crea un disagio che non è soltanto economico, ma è un disagio esistenziale legato allo sfasamento tra l'immagine che ci si fa di sé, tra l'immagine che ci si è costruiti, no, quando ci si guarda allo specchio e ci si dice che cosa si è o quando ci si presenta a qualcuno e la persona chiede che fai, chi sei, che lavoro fai, nel momento in cui non è più possibile rispondere a questa domanda, in cui diventa sempre più difficile, perché lo sfasamento tra l'autorappresentazione e poi quello che la società è davvero in grado di garantire si scava sempre di più, in questo momento sorge un disagio davvero esistenziale, un vero problema legato all'identità, chi sono io, non soltanto come farò a campare, non soltanto che lavoro farò, ma chi sono. Bisogna capire innanzitutto che quando una cosa finisce può finire per cause esterne e sicuramente di cause esterne ne abbiamo avute tante perché il mondo è cambiato molto, è cambiata la geografia del potere, dell'economia mondiale, però ci sono anche tante cause interne che spiegano perché siamo stati grandi, se vogliamo, spiegano perché abbiamo potuto godere di quel trentennio, quarantennio, forse addirittura cinquantennio di benessere, che sono cause interne e nel momento in cui vengono a mancare quelle cause lì, quella cosa finisce. Nel caso specifico abbiamo avuto qualcosa che appunto viene chiamato il boom economico, che era il prodotto di qualcosa che aveva condizioni storiche ben precise, che era la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, che era l'influenza americana, il piano Marshall sull'economia italiana, che era anche una particolare strutturazione del territorio italiano che emergeva in maniera molto rapida da uno stato di, come dire, di povertà, perlomeno in vaste aree soprattutto del meridione e questa specie di alchimia tra vari elementi ha permesso qualcosa che è stato sicuramente eccezionale. E allora l'errore, secondo me, è quello di chiedersi cosa è successo, come se avessimo messo in crisi una forma di normalità che doveva necessariamente uno stato stazionario che avrebbe dovuto proseguire all'infinito se non ci fossero state anomalie e invece rovesciare la cosa e dire quella cosa lì che ci siamo venduti come normalità, che ci siamo illusi che fosse normalità, era al contrario una parentesi storica con cause ben precise e in cui in fin dei conti abbiamo raggiunto delle situazioni eccezionali. Prendere atto del fatto che una certa idea di società, una certa idea di cultura, un certo modo di esistere fosse una parentesi, magari non per ogni aspetto ma per gran parte sappiamo che quel mondo non tornerà più. A questo punto la vera sfida è immaginare il modo in cui possiamo vivere, vivere assieme, immaginare anche una società, un'economia che possa realizzarsi nel dopo. Cosa c'è dopo il boom economico? Cosa c'è dopo l'età della crescita economica? Cosa c'è dopo l'illusione dello sviluppo? Questa è la sfida che abbiamo. La sfida che abbiamo è chiederci se siamo in grado noi di immaginare una tipologia di esistenza che non si basi più su quelle dinamiche lì, che non si basi più sull'abbondanza, che non si basi più su quell'idea di benessere. E questa è una sfida importante perché appunto è una sfida che prima che economica è una sfida culturale e significa chiederci cos'è che ha valore per noi, cos'è che ha valore per una società e in fin dei conti per arrivare su una cosa molto, che può sembrare un po' astratta, che può sembrare un po' filosofica, che può sembrare addirittura una domanda da bacio perugina, cosa ci rende felici? In che modo possiamo immaginare di essere felici sapendo che forse non potremmo diventare quella persona che pensavamo di diventare e vivere quella vita che pensavamo di vivere.